Salva Stati ci sta mettendo in giro occhio queste cose, le vogliamo raccontare, dobbiamo dare 15 miliardi di euro per il mese e noi pensiamo all'auto blu, perché buttiamo fumo negli occhi agli italiani, perché non gli raccontiamo le vere cause della crisi, io ho provato a farle in quel servizio di luci, ho provato a dirlo, mi hanno tagliato, perché quando io ho detto è stata tolta la sovranità al popolo italiano, la crisi è servita per toglierci la sovranità, perché mi hanno tagliato, perché non si può dire una verità in queste televisioni, perché non si può dire?